Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 4 km di coda per un veicolo fermo in avaria al km 344 tra Arezzo e Valdarno. Sempre verso Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla FIPL per lavori 3 km di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e 2 km di coda tra Montelupo Fiorentino e la Strassigna in direzione Firenze. Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze e Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!